Kingsport, Massachusetts Ardi luce, scaccia le tenebre! Se sono d'acciaio, lui non può prenderli! È un fatto o l'ho sognato? Che per mezzo dell'elettricità, il mondo della materia è diventato un grande nervo, vibrante migliaia di miglia, in un impetuoso punto del tempo! Bene, questo miserabile era salvo. Non è detto che... Non è detto che... Ah! Mio Dio! In persona, Arthur Feldon, alias il boia elettrico. Benvenuto a Kingsport. Quella maschera! Tu sei... il cobra nero! Questo lo so già. Quello che voglio sapere è perché va in giro per la mia città a fare allo spiedo i derelitti. Ia! Ia! Sub Nigurat! L'elettricità è la chiave per scacciarlo, anche se è un dio ben più antico di Giove, Thor e Perun. Chiunque sia quest'essere di cui parli, cominciamo con il togliergli un po' di nutrimento. Si nutre della carne dei folli, perché la pazzia è la chiave per la comprensione! Sub Nigurat, il nero capro a latta. Continuane la stanza grigia. Grazie. Grazie a tutti.